Come fare fitness o una routine quotidiana? L'aggiunta di fitness e l'esercizio nella vostra routine quotidiana è un modo ideale per beneficiare la vostra salute, soprattutto dopo aver effettuato il fitness un'abitudine costante. Quando la tua vita è abbastanza impegnato come è, e hai già una routine quotidiana in atto, l'atto di aggiungere forma fisica nella vostra vita può sembrare complessa. Tuttavia, con gli obiettivi propri e mentalità, si può prendere misure per fare fitness o una routine quotidiana. Continua a leggere questo articolo per conoscere i molti modi in cui è possibile aggiungere esercizio nella tua vita e rimanere coerenti con la vostra forma fisica. Designare un tempo specifico per il fitness È possibile aderire a una routine se mettere da parte specifiche volte al giorno per l'esercizio. Senza un periodo di tempo programmato, si può essere più probabilità di allontanarsi dal proprio impegno quotidiano di fitness. Scegliere un tempo che complimenti al vostro programma quotidiano. Ad esempio, se si partecipa a una palestra situata vicino al vostro posto di lavoro, si può esercitare la mattina presto prima di andare a lavorare, o il pomeriggio o la sera seguente il vostro turno di lavoro. Datevi almeno 20 minuti al giorno per il fitness e l'esercizio fisico. Anche se il tempo impiegato per il fitness e l'esercizio fisico può variare a seconda delle attività eseguite, almeno 20 minuti di attività fisica intensa, come la corsa, il nuoto, o basket, è necessario per un allenamento ottimale. Impostare obiettivi di fitness. Nella maggior parte dei casi, gli obiettivi vi costringerà a stabilire una rutina al fine di soddisfare tali obiettivi. Ad esempio, se il tuo obiettivo è quello di perdere una certa quantità di peso e entro un determinato periodo di tempo, sarà più che probabile che sia necessario esercitare in modo coerente su base giornaliera per soddisfare il vostro obiettivo di peso. Consultare un fitness trainer certificato o un esperto per aiutarti a impostare obiettivi di fitness realistici se non siete sicuri dell'asso di tempo in cui è possibile raggiungere i tuoi obiettivi. Scegliere un'attività di fitness che ti piace. Sarete più propense a stabilire e rispettare una routine quotidiana se vi piace veramente l'attività che si sta eseguendo. Per esempio, se ti piace giocare uno sport specifico, parte di una squadra o campionato per lo sport nel tuo quartiere o in una palestra. Eseguire brevi, esercizi meno intensi all'inizio. Se la vostra routine è troppo faticoso o intensa in anticipo, si può esercitare temete. Tuttavia, se ti trovi bene e soddisfatti del vostro esercizio di routine iniziale, può aumentare la probabilità di idoneità a diventare una routine quotidiana permanente. Cammina su e giù per rampe di scale invece di prendere ascensori o scale mobili, e parcheggiare l'auto nel punto più lontano dalla vostra destinazione per aumentare la vostra attività quotidiana in principio. Il tuo lavoro lentamente fino a vostri obiettivi di esercizio. Per esempio, se si vuole fare in esecuzione parte della vostra routine di fitness quotidiana, iniziare con una passeggiata a passo svelto fino a quando il corpo sente a suo agio e pronto per fare jogging o in esecuzione. Preparate la vostra attrezzatura fitness in anticipo. Questo vi permetterà di frequentare l'allenamento senza prendere il tempo per preparare o imballare la vostra attrezzatura, che può essere utile se il programma giornaliero è molto occupato. Prepara la borsa da palestra per il giorno successivo su base giornaliera, o mantenere la vostra attrezzatura fitness in auto o in un armadietto in palestra. Fare delle pause come necessario. Se si esercita su una base quotidiana, anche nei giorni in cui si è particolarmente stanchi o doloranti, si può diventare risentita della vostra routine di fitness e perdere la motivazione a lavorare fuori. Consentire al corpo di riposare e recuperare uno o due giorni a settimana. Se vi sentite in colpa per perdere un allenamento, o vuole mantenere una routine, anche quando si è stanchi, svolgere un'attività più mite, come lavori domestici o passeggiando per il quartiere.